un dialogo sull'horror al Mufant, Mufant sembra quasi il personaggio di un cartone Disney e invece è semplicemente il museo del fantastico e della fantascienza di Torino ma facciamoci raccontare di questa serata domani sera da uno dei protagonisti, diamo il benvenuto a Gian Giacomo della Porta buongiorno, ben trovato su GRP, ciao! buongiorno, grazie a voi per questa bella ospitata e sì, domani sarà il sesto appuntamento di questi nostri dialoghi tra prosa e poesia che ho ideato insieme all'autore Jacopo Marenghi è un format in cui noi raccontiamo delle storie, storie ovviamente che fanno parte della grande letteratura, le grandi storie, dei grandi scrittori, dei grandi poeti partendo sempre da un macro tema principale, abbiamo affrontato le ferrovie, gli spiriti del mare, gli animali di casca questa volta sarà la volta dell'horror ah, quindi una scala persa nel buio, così si intitola vero, questo sesto appuntamento una scala persa nel buio, esatto che già voglio dire il titolo è tutto un programma, ecco sì perché poi non sappiamo mai dove approderà questa scala speriamo in bene speriamo in bene, sì, di solito si dice che c'è una luce in fondo a questo buio e fa parte anche della nostra locandina fra le altre cose, questo buio con al centro una luce e vuole essere quello tratteremo grandi scrittori come Poe, come Lovecraft ma anche quelli più contemporanei tipo Stephen King parleremo dell'esorcista e non dimenticando che l'horror fa parte anche se pensiamo alla nostra società di oggi anche alla guerra certo in Palestina piuttosto che i barconi nel Mediterraneo certo quindi ogni nostro incontro ha sempre un focus particolare anche sull'attualità certo tutto questo succederà domani sera alle 21.30 dico bene? alle 21.30 faccio solo una precisazione sarà a Diagon Hall il nuovo luogo dell'artificio e ospite d'eccezione sarà il Mufant ah quindi via San Domenico 47 l'indirizzo è corretto cosa bisogna fare per partecipare? bisogna prenotare mandare mail acquistare biglietti come funziona? esatto la cosa migliore è prenotarsi alla mail infoeventi chiocciolalartificio.com l'ingresso è libero con offerta libera ah quindi insomma più di così della serie se vi è piaciuto lo spettacolo bene altrimenti potete anche andare a casa con le mani in tasca però secondo me insomma se ne vedranno e se ne sentiranno soprattutto delle belle visto che si parla di dialoghi tra prosa e poesia grazie mille Gian Giacomo della Porta per essere stato con noi a presto grazie a voi grazie a voi a presto a domani ciao GRP grazie a voi grazie a voi Grazie a tutti